Il Consiglio metropolitano ha approvato lo statuto della città metropolitana e l'articolazione delle 11 zone omogenee dotate di poteri e di organi propri in cui sarà articolato il territorio. Il voto del Consiglio corona un percorso democratico e partecipativo a cui in questi mesi hanno concorso attivamente i consiglieri metropolitani di tutti i partiti, i sindaci dei 315 comuni del territorio della città metropolitana e un'ampia platea di associazioni e organizzazioni della società civile. Lo statuto sarà ora sottoposto alla conferenza metropolitana dei sindaci per l'approvazione finale. La conferenza è convocata per martedì 14 aprile alle 9.30 nell'auditorium della sede della città metropolitana di Corso Inghilterra 7. Sindaco un passo importante che chiude un processo di partecipazione molto ampio. E' molto importante che lo statuto della città metropolitana che definisce le regole che presiederanno al funzionamento della città metropolitana sia stato approvato all'unanimità dagli esponenti di tutti i partiti politici che siedono in consiglio alla fine di un percorso democratico e partecipativo che ha visto partecipi non solo i consiglieri metropolitani ma tutti i 315 sindaci della città metropolitana che sono stati tutti consultati e le organizzazioni della società civile del nostro territorio. Un percorso democratico e partecipativo che ci ha consentito di darci regole condivise e quando si hanno delle regole condivise è più facile anche poi mettere in campo le politiche di cui il nostro territorio ha bisogno. Decolla così la città metropolitana, porteremo questo statuto alla conferenza il 14 aprile per l'approvazione definitiva e a partire da lì entrerà in pieno a pieno regime in funzione la città metropolitana che è stata istituita non come un fatto burocratico ma è stata istituita per offrire ai territori, ai cittadini più opportunità e più occasioni di sviluppo e di progresso. Voto all'unanimità sulle regole è anche un segnale politico in qualche modo? Certo, è un segnale politico che dimostra che il confronto può consentire a rappresentanti di forze politiche diverse che in altra sede hanno collocazioni di maggioranza e di opposizione possono lavorare insieme e possono definire regole insieme. È molto importante che le regole siano condivise, ci si può dividere su questo o quella scelta, su questa o quella deliberazione ma le regole condivise sono una condizione perché tutti si riconoscano nella città metropolitana e tutti lavorino per il miglior successo della città metropolitana.